pagina 192 e ora che siamo tutti riuniti occorre fare un bel brindisi il nostro amico solfagio ci ha portato quest'enorme bottiglia di spumante guardate ma è grandissimo e come facciamo a stapparla? non preoccuparti ci penso io è un tappo con telecomando un teletappo le inventano tutte è un'idea formidabile anch'io ho una sorpresa ma cos'è? un attimo di pazienza bene, sono pronto a tutti gli amici di Gioca e Suona dedico questa raccolta di canzoni l'omaggio è rivolto a tutti quelli che ci hanno seguito con simpatia e naturalmente a tutti quelli che ci hanno fatto divertire prima di tutti Cirillo e Cristina per tutti mamma grazie maestro merita proprio un bel bacio poi il capo Filippo Camilla Saverio Dorella solfagio Willy Perry Sniff e tutti i personaggi delle nostre storie dal lupo di mare al professor Fontest Dorella Dorella Grazie a tutti 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 Grazie a tutti